In questo nuovo capitolo, il capitolo 3, affrontiamo una nuova macro-regione europea, la regione francese. La regione francese comprende i paesi della Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e il Principato di Monaco. Ci sono diversi elementi che accomunano questi paesi, elementi storico-politici ed economici, come ad esempio il fatto che, essendo bagnati la maggior parte dei paesi dall'Oceano Atlantico, hanno avuto un grosso sviluppo commerciale e in passato sono state delle grandi potenze coloniali. È un'area altamente urbanizzata, cioè con molte città, e quindi c'è una rete di collegamenti, di trasporti, molto moderni e molto efficienti, e comprende le principali sedi delle istituzioni europee, di Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. Inoltre, in questa regione europea ci sono molte affilità linguistiche e culturali. Si parla per lo più francese e la storia degli altri paesi è molto collegata al vecchio impero francese. Dal punto di vista fisico e climatico, invece, la regione francese è delimitata da confini naturali abbastanza importanti, come le Alpi, i Pirenei, a est e a sud, ed essendo bagnata dall'Oceano Atlantico, ha un clima per lo più oceanico. Andiamo adesso a vedere la Francia. I confini della Francia sono a Nord, Belgio, Lussemburgo e Canale della Manica, a est Germania, Svizzera e Italia, a ovest è bagnata dall'Oceano Atlantico, e a sud confina con la Spagna e col Mar Mediterraneo. La Francia ha una superficie superiore a quella dell'Italia, ha intorno ai 550.000 km2, ricordiamo che l'Italia è 300.000 km2, e ha una popolazione simile a quella dell'Italia, un po' più alta, sui 66 milioni. Adesso l'Italia è scesa sotto i 60 milioni di abitanti. Per una densità di popolazione di 120 abitanti per km2. la capitale è Parigi, è una repubblica semipresidenziale, cosa vuol dire? Che il presidente viene eletto dal popolo e poi deve avere la conferma del Parlamento, quindi subire un'altra votazione. La religione predominante è il cattolicesimo per l'80%, in salita la religione islamica, visto l'alto tasso di immigrazione e visto il passato coloniale della Francia, altre religioni coprono il 10%. La lingua ufficiale è il francese, la moneta è l'euro. Il clima della Francia è atlantico, a nord e ovest sobbisce molto l'influenza dell'oceano atlantico. Semicontinentale al centro e a est, dove è più lontana dall'oceano. Montano sui Pirenei e sulle Alpi, che sono dei rilievi consistenti. E Mediterraneo al sud e nell'isola della Corsica, che appartiene alla Francia. I rilievi principali, come detto, sono i vosgi al confine con la Germania, le Alpi al confine con la Svizzera e con l'Italia, e i Pirenei al confine con la Spagna. Poi ci sono dei massicci antichissimi, un po' più bassi di altezza rispetto ai precedenti, il massiccio centrale e il massiccio armoricano. I fiumi principali sono la Senna, che bagna Parigi, la Loira, che attraversa il grande basso piano francese e la grande pianura francese, e il Rodano, che attraversa da nord a sud tutta la Francia. Le isole della Francia, l'unica isola di proprietà della Francia, è la Corsica, in passato proprietà della Repubblica di Genova. Andiamo adesso a vedere meglio gli elementi del territorio. Abbiamo a sud-est le Alpi, che la dividono dalla Svizzera e dall'Italia. A sud abbiamo i Pirenei, che la dividono dalla Spagna, e queste sono le catene montuose di maggior altezza. Poi abbiamo i vosgi, dei monti più antichi, di altezze inferiori al confine con la Germania, e il massiccio centrale nel centro della Francia, e il massiccio armoricano nella penisola della Bretagna, che sono delle formazioni montuose più antiche, e perciò di altezze inferiori. Le grandi pianure francesi sono quelle intorno al bacino di Parigi, vedete questa grande pianura che si collega nel nord della Francia, che si collega a sud con il bacino di Aquitania, questa grande pianura sull'oceano Atlantico. Infine, l'ultima pianura è il Lac-Amargue, nella zona della foce del fiume Rodano. L'isola appartenente alla Francia è la Corsica, i fiumi principali sono la Senna, che attraversa Parigi, la Loira, che attraversa il grande bassopiano francese, o bacino di Parigi, e il Rodano, che nasce dal massiccio centrale e sfocia nel Mediterraneo. La geostoria della Francia è molto ricca e molto importante perché ha condizionato la politica e la storia europea per molti secoli. Inizialmente la Francia era abitata sin dalla preistoria nella zona del massiccio centrale, come attestato dalle splendide grotte di Lescaux, chiamate la Cappella Sistina della Preistoria. Successivamente la Francia è stata abitata da una popolazione celtica, i Galli, fino al VI secolo a.C. Nel 51 a.C. è stata conquistata da Cesare e diventata una provincia romana col nome di Gallia. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, nel 481 d.C., il re dei Franchi Clodoveo ha fondato un nuovo stato autonomo che appunto dai Franchi prende il nome di Francia. La Francia è stata poi inglobata nel Sacro Romano Impero di Carlo Magno, discendente sempre del re dei Franchi, e nel XVIII secolo, con Luigi XIV, la Francia si è trasformata in un grande impero e ha dominato la politica europea di quell'epoca. Nel 1789, a seguito della Rivoluzione Francese, la Francia è diventata la prima repubblica d'Europa, diffondendo gli ideali della rivoluzione in tutto il mondo. Dopo la Rivoluzione Francese, nei primi anni dell'Ottocento, Napoleone ha conquistato quasi tutta l'Europa, esportando la supremazia francese in tutta Europa. All'inizio del Novecento, la Francia, grande potenza economica e industriale, fonderà un enorme impero coloniale, soprattutto nell'Africa nord-occidentale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Francia ha subito l'occupazione tedesca, qui vedete la famosa passeggiata di Hitler sui Champs-Élysées, e nel 1957 è stato uno dei paesi fondatori della CEE, poi Unione Europea. Per quanto riguarda la popolazione francese, la popolazione francese è in grande aumento ed è molto più giovane della media europea. Infatti il tasso di fertilità, ossia figli per donna, è 2,8, quindi superiore al 2 figli per donna, mentre nel resto di Europa questo tasso si aggira intorno all'1,4 figli per donna. L'età media è di 40,9 anni, l'età media europea, ricordiamola, supera i 44 anni. Perché si verificano in Francia queste condizioni favorevoli per la demografia, cioè per l'aumento della popolazione? Grazie all'assistenza sociale da parte dello Stato e grazie a un'immigrazione costante ma regolare. La lingua ufficiale della Francia è il francese, che si parla anche in altre parti del mondo, le ex colonie francesi. le religioni predominanti, come abbiamo detto, sono il cattolicesimo con l'80%, anche se non tutti i cattolici francesi sono praticanti, e l'Islam è arrivato al 10% tra le religioni. Perché? Perché gli immigrati francesi arrivano soprattutto dalle ex colonie francesi dell'Africa, Tunisia, Marocco, Algeria, Senegal e altre, dove la religione ufficiale è l'Islam e quindi hanno importato l'Islam anche in Francia. Cosa possiamo dire della società francese? Quando pensiamo alla società francese pensiamo a una parola grandeur. Grandeur vuol dire il sentimento di superiorità tipico dei francesi. Questo sentimento ha delle radici storiche, particolarmente nel periodo napoleonico, quando la Francia dominava l'Europa. Ma la Francia è anche il paese che ha esportato in tutto il mondo gli ideali di liberté, egalité, fraternité relativi alla rivoluzione francese del 1789. Infatti fu il primo paese europeo ad adottare una carta dei diritti umani. Nonostante ciò, però, in Francia si vivono molte tensioni razziali, soprattutto nei quartieri delle Ballye, questi casermoni di cemento in cui vengono stipati gli immigrati o i francesi provenienti dalle ex-colonie. Quindi, in Francia non si è mai realizzata una vera e propria integrazione razziale. le Ballye, lo vedremo meglio in classe durante le ore di educazione civica, sono appunto una bomba d'orologeria pronta a scoppiare. Ci sono state già diverse rivolte in questi quartieri contro la mancata inclusione di questi elementi provenienti dalle ex-colonie. le città principali della Francia sono Parigi che è la capitale con 11 milioni di abitanti ed è il cuore della Francia centro sia politico sia economico che culturale ma potremmo dire di tutta Europa. Poi abbiamo Marsilia la seconda città di Francia con 900 mila abitanti ed è uno dei più grandi attivi porti commerciali del Mediterraneo mentre Lione centro commerciale sulla via del Rodano che viene direttamente dalla Germania è uno dei poli chimici e farmaceutici più grandi di Europa. L'economia francese come vedete c'è un percentuale molto importante nel settore terziario ma anche l'agricoltura e l'industria danno il loro contributo questi sono alcuni dei marchi automobilistici più famosi del mondo prodotti in Francia i famosi formaggi francesi la produzione di lavanda il turismo culturale e naturalistico molto diffuso la Francia produce molta energia elettrica con le sue centrali nucleari è uno dei massimi produttori di energia nucleare e esporta dei pregiatissimi vini in base a tutto ciò vediamo che nel settore primario la Francia produce grano barbabiettore da zucchero uva bovini latte e pesce esporta vino formaggi grano e carne di manzo e importa beni alimentari di alta qualità nel settore secondario produce energia elettrica automobili aerei elettronica abbigliamento e prodotti alimentari esporta energia elettrica automobili aerei prodotti chimici acciaio verso soprattutto Germania Belgio Italia e importa parti di auto e parti di aereo quindi componentistiche per la sua industria pesante petrolio per alimentare le sue industrie il settore terziario spicca per i servizi pubblici molto avanzati il turismo culturale la ricerca universitaria il turismo naturalistico il design dell'alta moda i marchi di lusso i centri commerciali pensate al Carrefour alle Clerc Conad i servizi finanziari e i trasporti veramente avanzati e aveniristici in alcune città è sviluppata la monorotaia magnetica che è un sistema di trasporto molto avanzato bene con questa slide si conclude questa prima parte del capitolo in cui ci siamo occupati della regione francese e della Francia in tutti i suoi aspetti arrivederci